Ci aspettavamo forse qualcosa in più, però in effetti dobbiamo prendere atto che quest'anno è un anno particolare, è un anno nel quale potremmo raggiungere un obiettivo fondamentale per noi, quale sarebbe i play-off, però potremmo anche inevitabilmente non raggiungerli. Nel caso in cui non li raggiungessimo sarebbe una delusione? Nel caso in cui non li raggiungessimo sarebbe una delusione cocente. Sarebbe un successo mio, prima di ogni cosa, perché sono il primo responsabile di questo, poi sarebbe una sconfitta anche per i direttori che hanno fatto, secondo me hanno allestito una grande squadra ma che evidentemente non riesce a quadrare così come ci aspettavamo e una sconfitta per l'allenatore evidentemente, per lo staff tecnico perché è vero che non era un obiettivo fondamentale, però quando abbiamo fatto il contratto abbiamo fatto un contratto di un anno con il possibile rinnovo dello stesso a certe condizioni, quindi è chiaro che potrebbe essere un successo anche per i mister, insomma io mi auguro di no. Sarebbe un successo per tutti e la cosa non mi farebbe piacere francamente. Un torno a avere molto spinto in queste ultime due partite e anche qualche giocatore fuori ruolo? Beh questa è una domanda che non dovete aggirare a me evidentemente, dovete aggirare a tecnico, insomma. Fatto sta che l'ultima partita mi sono praticamente imbufalito, però più che fare questo io non posso fare, posso parlare con i mister, probabilmente parlerò oggi pomeriggio perché siamo tornati ieri sera tardi da Bruxelles dove sono andato a fare acquisti importanti, per l'anno prossimo evidentemente, ho perlomeno gettato le basi per fare questo, poi in effetti non abbiamo firmato nessun contratto perché molti dei giocatori sono legati fino al 2016 con alcune squadre, però insomma abbiamo gettato le basi per fare degli acquisti buoni, importanti. Per il discorso del mister, come dicevo prima, sono un po' imbufalito perché inevitabilmente ho visto che qualcosa non quadrava, mettere una squadra in campo con molta gente, molti di loro, che non erano messi in condizione di rendere al massimo perché evidentemente non erano questi ruoli, cioè ho visto, faccio un esempio su tutti, insomma è cratante, vedere Bastiene che gioca all'esterno-sinistro, insomma, no no, Bastiene alla fine, alla fine Bastiene è stato messo lì e è chiaro che non ha fatto niente in quel ruolo perché è una cosa che non gli compete proprio, sbaffo messo in una posizione della sua, insomma però voglio dire, il mister che vede gli allenamenti probabilmente sa che i giocatori possono fare anche quel ruolo. Ma io dico, se abbiamo dei giocatori che fanno quel ruolo di professione come attività principale, perché non utilizzare quelli? Contro lo Spezza, una partita da dentro fuori perché siamo a quattro punti dai play-off, nel caso di sconfitta diventerebbe tutto complicato a 13 giornali dalla fine del campionato. Ma io il dentro e fuori non lo direi mai, insomma, perché non vi dimenticate che c'erano squadre che lottavano per la retrocessione o erano lì, tipo il Trapani è arrivato ai nostri stessi punti, mi sembra. Può cambiare la situazione della classifica in maniera significativa in poche partite, quindi non direi dentro e fuori. Certo che per noi è una partita importante e mi aspetto che succeda la stessa cosa che è successo con Livorno. Preferisco, credetemi, giocare non troppo bene, vincere la partita, piuttosto che giocare bene come martedì e perdere la partita. Cioè preferisci un Avellino un po' rastelliano? Preferisco un Avellino molto più rastelliano, certo, un Avellino più tacconiano anche. Cioè un Avellino che mette in campo quello che ha.